Amministratore della casa editrice Ad Maiora, il pugliese Giuseppe Pierro è stato insignito del premio imprenditore dell'anno. Lo ha incontrato per noi Francesco Rossi e ha raccontato quali sono le nuove sfide a cui sta lavorando. Da Trani partono diversi messaggi importanti. Il primo è che non è vero che non si legge. Il secondo è che si può fare impresa al sud. Il terzo è che si può fare impresa dando occupazione. Tutte queste connotazioni vengono da Ad Maiora. Sì, noi siamo contenti che in questo periodo storico, un periodo di forte crisi, specie nell'editoria giuridica, l'Ad Maiora con una serie di iniziative mirate riesce sempre a difendersi, e anzi a incrementare di anno in anno il suo fatturato, il suo impegno, i suoi progetti, le sue uscite. Questo ci colloca, con orgoglio lo dico, tra ormai leader nel settore dell'editoria tecnica giuridica a livello nazionale. Sicuramente dato dalla nostra innovazione del telemarketing e sicuramente anche dal lavoro certosino, massacrante, ma anche entusiasmante di tutto il mio staff. Un lavoro che ha portato anche a riconoscimenti prestigiosi. L'ultimo è l'imprenditore dell'anno in Puglia nel suo settore. Sì, certo, ovviamente è un riconoscimento che devo condividere con delle persone, innanzitutto con Giuseppe Calabresi, con il quale ho iniziato un percorso, il percorso Popolo di Maiora, fino a qualche anno fa. E poi sicuramente con tutto il mio staff, che ripeto, quotidianamente e duramente, lavora per portare avanti un sogno, un progetto, che è quello di essere sempre leader nel settore dell'editoria giuridica. Un sogno che si è trasformato in realtà, ma che produce altri sogni. Il prossimo prenderà corpo a settembre con una branca, con un settore che riguarderà il settore della salute, il settore medico. Sì, noi abbiamo iniziato quest'opera di diversificazione l'anno scorso con Energy Tech, e quindi creando una linea editoriale per tecnici. E visto il buon successo, perché ovviamente abbiamo portato la nostra scuola, la nostra politica aziendale, anche su questa linea editoriale, nuova per noi, quest'anno ci siamo prefissi di una nuova scommessa. Quindi entro settembre daremo vita a una sottocaseditrice, a D-Medical, sempre qui in Poglia, perché ovviamente noi saremo sempre pugliesi, nonostante abbiamo anche una sede nella capitale. E quindi ovviamente con nuovi sbocchi, nuovi anche posti di lavoro.